prolunga per cinturona lice originale nuovo di capitolato ancora col codice a barre attacchi in polimero robustissima cordura per cosa serve come viene utilizzato viene utilizzato per allungare cinturoni qualora necessitate ovviamente solo esclusivamente lo cinturone con lo stesso attacco alice deve essere compatibile desideriate non spostare il vostro cinturone dalla misura che avete preparato per passare a un equipaggiamento di diverso tipo sopra la giacca avvento invernale o semplicemente volete allungarlo di una o più taglie agganciate questa parte e questa parte ci sarà un doppio attacco lo sgancerete quando ne avrete bisogno lo fate ritornare con questo sistema prolungate l'estensione del cinturone